Ciao, io sono Isabella. Io sono Mariangela. Abbiamo appena terminato il corso di massaggio californiano gestito dalla Scuola Professionale di Massaggi di Abasi. Prendiamo parte entrambe del Biennio e siamo nella sede di Roma. Consiglio questa scuola a tutti coloro che sono interessati a questo percorso formativo di massaggio professionale perché è proprio una scuola a livello altissimo professionale e gestito da insegnanti davvero molto competenti. Il massaggio californiano è bellissimo, è un massaggio molto delicato però è molto profondo e rientra nel massaggio corporeo e sensoriale affinché poi possa gestire e tirar fuori tutte le nostre emozioni e quelle anche di chi riceve questo tipo di massaggio. Ciao, ciao, ciao.